Credo che alcune scelte dovevano essere anche ponderate meglio. Tipo quali? Per esempio quella di adottare dei vaccini non certificati dall'EMA. Quindi San Marino ha sbagliato in questo? Questa è una considerazione che le autorità di San Marino è bene che facciano. Perché noi non possiamo consentire che alle cittadine e ai cittadini d'Europa venga consentito di diffondere un vaccino che non è certificato dall'autorità europea. Sarebbe un'incoscienza questo. Allora io credo che forse una riflessione delle autorità, in questo caso di San Marino, così come di altri paesi, mi riferisco ad esempio ad alcuni paesi dei Balcani che forse con troppa leggerezza hanno creduto che il vaccino Sputnik fosse all'altezza delle condizioni che l'Europa stava mettendo in campo. Noi come possiamo certificare qualcosa che non è certificato dalla nostra agenzia europea? Sarebbe un'incoscienza questo. Grazie a tutti.